Benvenuti a questo video speciale, dove affronteremo un discorso motivazionale e ispiratore che potrà cambiare il tuo modo di vedere le sfide e i traguardi nella vita. Oggi ci immergeremo in un messaggio di fiducia, perseveranza e forza interiore. Prima di iniziare, ti chiedo gentilmente di iscriverti al nostro canale per sostenere il nostro lavoro e rimanere aggiornato su futuri contenuti motivazionali. Preparati a essere ispirato, a scoprire il tuo potenziale e ad affrontare ogni ostacolo con determinazione. Senza ulteriori indugi, iniziamo questa straordinaria avventura di crescita personale. Buona visione! Ciò che è fondamentale comprendere, più che mai in questo momento, è che non sei qui semplicemente per sopravvivere o per orientarti in un territorio sconosciuto. No, sei stato forgiato per questo istante, soprattutto quando inizi a percepire il traguardo e a scorgere la vetta della montagna. Sai che tutto sta per essere messo in discussione, ma ecco uno dei più grandi segreti che mi siano mai stati rivelati, questa prova non riguarda il presente, né tanto meno il futuro. È piuttosto una questione di consolidare la fondazione che hai già costruito e di avere fiducia in te stesso, di essere te stesso. È il risultato di tutte quelle volte in cui avresti potuto dire di no, ma non l'hai fatto. Come molti altri, avresti potuto intraprendere la strada più facile, ma hai optato per qualcosa di più grande. No, amico mio, l'ostacolo davanti a te non è il luogo in cui ti costruisci, ti definisci o ti crei. È il luogo in cui semplicemente confermi chi sei già, in cui riscuoti un premio che hai faticosamente guadagnato nel corso degli anni, il luogo in cui convalidi il prezzo che hai pagato per tutto il tempo che riesci a ricordare. C'è un detto che recita, il dolore è temporaneo, ma l'abbandono è eterno. Questa citazione, semplice ma potente, mi ha sostenuto durante alcune delle prove e delle tribolazioni più impegnative della vita, nei momenti in cui ci sentiamo sopraffatti o nel caos della vita. In quei momenti, la nostra mente non ci ricorda che abbiamo superato situazioni simili in passato e che ce la faremo ancora. Non ci fa notare le nostre forze né ci assicura della nostra dedizione. Invece, quando ci sentiamo sommersi dal caos, vediamo solo ciò che non siamo, ed è per questo che molte persone si arrendono. Si lasciano consumare dall'oscurità, dimenticando che la soluzione è a portata di mano, trascurando il fatto che hanno già tutto ciò di cui hanno bisogno. Quindi, prendi questa riflessione come un promemoria che raggiungere il traguardo non richiede un miracolo. Non ti chiede di compiere qualcosa che nessun essere umano ha mai realizzato prima di te. No, tutto ciò che ti chiede è di credere in te stesso, di perseverare quando gli altri cederebbero, di andare avanti quando vorresti tornare indietro. Perché è sempre più buio prima dell'alba, più impegnativo quando sei vicino alla vetta e il ruggito della folla diventa udibile, quando il trofeo è visibile. Trova dentro di te la forza per emergere sotto pressione, per non ritirarti, ma per espanderti. Sì la persona più potente nella tua vita, perché in questo momento sei arrivato. Tra anni, quando guarderai indietro, assicurati di ricordare una cosa di questo momento, che hai dato tutto ciò che avevi, che hai sfruttato le notti insonni, le sveglie all'alba, le ore e ore di studio, la preparazione, la dedizione e la resilienza. Ricordati che sapevi chi eri e hai permesso a quella conoscenza di manifestarsi e guidarti verso il futuro. Tutti ci troviamo in questo bivio, quello in cui dobbiamo prendere una decisione, sopravvivere o prosperare? Esistere o vivere davvero? Nella corsa della vita, quando il cuore batte nel petto, il sangue scorre nelle vene, i polmoni chiedono aria e la mente supplica di fermarsi, è in quei momenti che dobbiamo andare avanti, che dobbiamo dare il massimo di noi stessi, che dobbiamo mettere insieme tutti i tasselli per creare il nostro capolavoro, per dare vita alla fondazione su cui abbiamo camminato finora. Questo momento è tuo, se sei disposto a sopportare, a resistere ancora un po', a dare ancora un po' di più. Se metti tutto te stesso nel compito che hai davanti, potresti rimanere stupefatto da ciò che la vita ti restituirà. Puoi farcela, sei così vicino al traguardo, non arrenderti ora. Puoi farcela, sei così vicino al traguardo, non arrenderti ora. In questo istante, hai accumulato anni di impegno, di sacrifici, di momenti difficili e di successi che ti hanno portato fino a questo punto. E ora, mentre ti trovi qui, ricorda che sei più forte di quanto credi e più capace di quanto immagini. Nella vita, ci troviamo spesso di fronte a una scelta cruciale, sopravvivere o prosperare. Puoi scegliere di limitarti a sopravvivere, ma so che dentro di te c'è la forza per fare molto di più. Puoi scegliere di non accontentarti dell'esistenza, ma di vivere davvero ogni momento, di abbracciare le sfide con coraggio e determinazione. Quando ti senti sopraffatto, quando sembra che il mondo ti stia chiudendo dentro, ricorda che hai affrontato ostacoli prima d'ora. Hai superato momenti difficili, hai superato le tue paure e hai dimostrato la tua resilienza. Questo è il momento di sfruttare tutta quella forza interiore che hai accumulato nel corso degli anni. Sappi che non sei solo in questa sfida. Ci sono altre persone che credono in te, che ti sostengono e che vedono il tuo potenziale. Non permettere mai alle tue paure di oscurare la tua luce. Accendi il tuo interruttore interiore e fai brillare la tua determinazione. Ricorda che questa prova non è solo un modo per dimostrare chi sei, ma anche per rafforzare e approfondire la tua conoscenza di te stesso. È un momento in cui puoi mettere in pratica tutto ciò che hai imparato nel corso degli anni. Tutte le lezioni che hai affrontato, e utilizzarle per superare questo ostacolo. Quando raggiungerai quel traguardo, quando guarderai indietro a questo momento, sarai fiero di te stesso. Sarai consapevole di aver dato il massimo e di essere cresciuto nel processo. Quindi, continua a spingerti oltre i tuoi limiti, continua a credere in te stesso e ricorda che sei più forte di quanto pensi. Non arrenderti ora, perché sei così vicino alla vittoria. Continua a lottare, continua a dare il massimo, perché hai tutto ciò di cui hai bisogno per attraversare quel traguardo e raggiungere il successo che meriti. La tua determinazione è la chiave, e la luce che brilla dentro di te è più potente di qualsiasi oscurità che possa avvolgerti. Vai avanti e conquista il tuo destino, perché sei destinato a brillare. Arriviamo alla fine di questo potente messaggio di motivazione e ispirazione. Spero sinceramente che queste parole ti abbiano toccato e che tu abbia trovato la forza e la determinazione per affrontare le sfide che la vita ti presenta. Se hai apprezzato questo video e desideri continuare a ricevere contenuti simili, ti chiedo gentilmente di iscriverti al nostro canale. Clicca sul pulsante «Iscriviti» e attiva la campanella delle notifiche in modo da non perdere neanche un aggiornamento futuro. Inoltre, se hai trovato valore in questo video, ti preghiamo di lasciare un like, condividere con i tuoi amici e familiari per diffondere il messaggio e commentare qui sotto con le tue impressioni e le sfide che stai affrontando. La tua partecipazione è fondamentale per sostenere il canale e ci aiuta a continuare a creare contenuti che possano ispirare e motivare altre persone. Grazie di cuore per aver dedicato il tuo tempo a questo video. Ricorda, sei più forte di quanto pensi e hai il potere di superare qualsiasi ostacolo. Continua a credere in te stesso e a perseguire i tuoi sogni. Ci vediamo nel prossimo video. A presto. A presto. A presto.